In realtà non so da quanto tempo io stia provando a registrare questa cosa, ma spero che questa sia la volta buona. Salve a tutti amici scacchisti e bentornati sul canale. Oggi inauguriamo la rubrica dedicata alla storia scacchistica. In particolare, oggi parliamo del primo campione del mondo di scacchi, definito il padre degli scacchi moderni e noto a tutti per il suo contributo al gioco posizionale. Avete capito tutti di chi stiamo parlando, soprattutto perché avete letto il titolo. Il suo nome è Wilhelm Steinitz. Wilhelm Steinitz è uno scacchista austriaco naturalizzato americano nato a Praga nel 1836. Viene definito austriaco perché Praga era sotto l'impero austriaco al tempo, non c'era ancora la Repubblica cieca. Però se volete pensare che sia cieco, insomma, a guardarlo bene, posso darvi ragione. Parliamo un po' della sua vita. Nasce in una famiglia numerosa nel ghetto di Praga. Perché è ebreo. Non incarna proprio lo stereotipo di ricco banchiere, infatti suo padre, Iosef Solomon, faceva il sarto. Comunque nasce in una famiglia molto numerosa, è uno di 13 fratelli, perché all'epoca si usava a fare un sacco di figli, visto che la mortalità infantile era molto alta nella prima metà del XIX secolo, soprattutto se vivi in un ghetto. Impara a giocare a scacchi a 12 anni, probabilmente dal padre o da un compagno di scuola, non è molto chiaro, ma non è neanche molto importante, visto che con gli scacchi non farà nulla per i primi anni di vita. A 18 anni però si sposta a Vienna, per iscriversi all'università di matematica. Lì incontra gli scacchi davvero, perché grazie a Paul Morphy, nei caffè viennesi, era molto popolare giocare a scacchi per soldi e fondamentalmente divertirsi. Lui si scopre molto bravo in questo gioco, perché è una persona molto intelligente, ed è più bravo della media a giocare a scacchi e decide di farne una specie di lavoro. Alcuni pensano che si sia pagato gli studi giocando a scacchi, questo non è del tutto vero, per due ragioni. Uno, faceva anche il giornalista, e seconda ragione, viene espulso dall'università molto presto dopo aver fallito alcuni esami, insomma se tu lavori e poi passi tutto il tuo tempo libero a giocare a scacchi, probabilmente lo studio non fa proprio per te. Però anche nel 1800 le persone facevano soldi con i giochi, solo che non lo mettevano su internet e quindi la gente non si indignava. Ad ogni modo si diverte molto a giocare a scacchi e vuole farne la sua vita, vuole proprio fare degli scacchi il proprio lavoro a tempo pieno, e quindi decide di iscriversi a un circolo, visto che a Vienna c'era il circolo di scacchi e a Praga no. E tutti penserete, primo campione del mondo, questo qua si iscrive al circolo, spacca tutti, fa un sacco di tornei e vince. No! Perché come tutti all'inizio è scarsissimo. Semplicemente perché immaginate di giocare a scacchi per due mesi in un bar, magari vincendo anche un sacco di partite perché siete più forti del giocatore medio. Questo non vi aiuta a migliorare scacchi perché non apprendereste niente. Steinitz però è una persona molto testarda, non perde la passione e fino ai 25 anni continua a giocare senza vincere mai un torneo. Ora per fare un paragone infelice, siamo abituati a vedere campioni del mondo che arrivano al titolo mondiale prima dei 25 anni. Ad ogni modo lui ha questo sogno e vuole vivere di scacchi. Il problema è che deve essere riconosciuto in un qualche modo dalla comunità scacchistica. E ok, sì, puoi vincere qualche torneo, ma li abbiamo vinti tutti, un paio di tornei, deve fare qualcosa di grosso. E allora si sposta in Inghilterra dopo aver vinto un paio di tornei a Vienna. Londra è la città che lo ospiterà per i suoi successivi 20 anni di vita e lì ha il piano, ha l'idea geniale. Decide di sfidare Adolf Andersen nel 66, 1866, che è considerato il giocatore più forte di quell'epoca, più forte al mondo proprio. E lo sfida in un match di 14 partite. E riesce a vincere l'incontro. Dopo aver vinto l'incontro, si affibbia il titolo di campione del mondo. Così, dal nulla. Ok, non sembra tanto legittimo, ma in fin dei conti, una volta che Murphy si era ritirato, Andersen era davvero noto a tutti come il giocatore più forte del mondo. E dunque la comunità scacchistica ha accettato abbastanza facilmente che Stainitz ottenesse quel titolo, perché lo aveva battuto. È importante notare che il titolo non era ancora mai esistito prima, e alla gente interessava fondamentalmente giocare e non vantarsi con gli amichetti di essere il più forte. Quanto valore poteva avere quel titolo allora? E quindi ok, Stainitz decide di scrivere che è il campione del mondo nei suoi articoli, quando parla con i suoi amici, quando parla con chiunque fondamentalmente. Però, per vivere di scacchi, bisogna anche ricavarne guadagno. E non esisteva ancora la FIDE, che è la Federazione Internazionale di Scacchi, che adesso chiaramente finanzia il titolo mondiale. Prende i soldi dagli sponsor, e non è davvero chiaro come funzioni, ma non è questo il punto. Il punto è che noi sappiamo che adesso la FIDE ci mette i soldi. Allora funzionava in maniera diversa, perché non c'era nessuno a metterci i soldi davvero. E quindi si sono raccolti dei soldi tramite delle scommesse. Dei cittadini puntavano i soldi su un vincitore, e parte della raccolta di denaro veniva lasciata a chi avesse davvero vinto il match. E Steinitz, in questo modo, riesce a vincere l'incredibile cifra di 100 pound, che sono l'equivalente, al momento in cui sto registrando, di 114 euro e 11 centesimi. Tantissimo proprio! No, ok, allora era lo stipendio di due anni di lavoro del lavoratore medio. Quindi un sacco di soldi, in realtà. E poi le cose funzionavano in maniera diversa, allora. Ad esempio, un pound corrispondeva a 20 scellini, ogni scellino corrispondeva a 12 pence. E in pratica per dare il resto ti serviva una laurea magistrale in matematica. Dopo aver ottenuto il titolo mondiale e aver ottenuto del danaro, deve comunque trovare il modo di farne altro di danaro, perché non è che puoi vivere con due anni di stipendio. E quindi torna alle origini, torna a giocare a soldi. Il club in cui gioca si chiama Simpson in the Strand, ed è ora uno dei più antichi ristoranti di Londra. In realtà al tempo era un mezzo circolo di scacchi dove le persone potevano ritrovarsi e giocare per soldi. E Steinitz si reca in questo posto, inizia a giocare e guadagna un sacco di soldi, incontrando anche dei giocatori abbastanza forti. Chiaramente però non è che puoi tornare a giocare al bar. Devi cercare di rimanere al passo con i tempi, di giocare anche a livello agonistico. E quindi Steinitz decide di fare dei tornei. Andrà bene come col match mondiale? Non proprio in realtà, perché uno pensa dai sei il campione del mondo, sei il giocatore più forte. Però ad esempio, Parigi 1867. Il primo classificato di questo torneo è Ignatz von Kolisch. Classe 1837. Abbandona gli scacchi nel 1868 per fare il banchiere. Sì, lui è lo stereotipo del banchiere ebreo in realtà. È riuscito ad arrivare dopo uno che degli scacchi non frega proprio niente. Però chiaramente al secondo posto ci sarà... No. Simon Wienhauer. Classe 1838. È conosciuto al mondo per la variante Wienhauer della francese e per il gambetto omonimo. Però sì, concediamolo. Al terzo posto è arrivato Steinitz. Ma ancora, vado in vado in 1870. Al primo posto... Adolf Andersen. Quello che aveva battuto nel match mondiale. E ancora una volta Steinitz arriva a secondo. Non riuscendo a vincere il torneo. Ha vinto qualche torneo, vi chiederete voi? Sì. Vienna un 1873. Primo posto con 10 su 11 a pari merito con Blackburn. Però alla fine è riuscito a vincere allo spareggio. Quindi l'ha davvero vinto questo torneo. Ed è molto importante perché questo torneo è il primo nel quale adotta uno stile posizionale e poco romantico. Perché al tempo la gente era pazza. Sacrificava materiale come se fosse ordinario farlo. Perché non esistevano i motori. La letteratura in campo scacchistico era limitata. Alla fine se ci pensiamo è molto più facile attaccare che difendere negli scacchi. Perché spesso che attacca a tutti i pezzi attivi, all'iniziativa, i suoi pezzi giocano molto facilmente. Mentre chi difende ok ha più materiale però magari ha il re esposto e deve cercare delle mosse uniche. E quindi al tempo, non sapendo molto degli scacchi, era abbastanza facile vincere delle partite sacrificando materiale romanticamente e andando a mattare l'avversario. Steinitz però ha capito che sapendo difendersi bene si poteva vincere. Perché una volta che l'avversario vede svanire la propria iniziativa si ritrova con del materiale in meno e allora si vince noi, no? Vince il difensore. Questo cambio di stile è influenzato dai movimenti filosofico-culturali del tempo. Nel 1800 è vero che è popolare la poesia romantica. Però nel 1840 circa nasce il naturalismo francese di Émile Zola che è poi una versione più carina del verismo italiano di fine 800. In ogni caso l'Europa in quel periodo stava abbandonando l'idea romantica di il sentimento vale molto più della ragione e quindi io sono molto speciale indipendentemente da chi sono per cercare di raccontare quello che è reale e da un punto di vista oggettivo, quasi scientifico a volte. Allo stesso modo Steinitz pensa che negli scacchi si debba abbandonare l'idea del ehi adesso ti schianto i pezzi addosso e ti vengo a mattare per passare a una vittoria più lenta dove si sfruttano piccoli vantaggi posizionali per migliorare piano piano la posizione e vincere la partita. Questo stile lo rende molto diverso dagli altri. Probabilmente era il classico personaggio col quale nessuno avrebbe mai voluto giocare bracciomente. Ok forse bracciomente no. Al tempo si usava giocare partite con consultazione o di consultazione non so quale sia il termine. In pratica da uno dei due lati dal bianco o dal nero ci sono più persone che si consultano effettivamente ragionano si scambiano le proprie idee e decidono insieme quale mossa sia opportuno fare. Il suo stile lo rendeva completamente diverso da tutti gli altri e quindi nessuno avrebbe mai voluto stare in squadra con lui. Anche perché, fun fact, lui utilizzava a bere durante le partite, durante le partite anche ufficiali, un misto di vino e succo d'arancia. Ce lo vedete voi Carson che contro Caruana inizia a darsi all'alcol mentre sta giocando? Io non credo. Il titolo mondiale però è un peso abbastanza grosso da portarsi addosso perché alla fine ok non esiste la fide ma è un po' il sogno di tutti i giocatori essere il campione del mondo e quindi nel 1872 viene sfidato da Johan Zuckertort. Classe 1842 è molto forte nel gioco alla cieca e anche lui come Steinitz fa il giornalista in ambito scacchistico. Steinitz però è molto più forte e riesce a vincere per 9 a 3. Un altro sfidante nel 1876 questa volta è Joseph Blackburn. Blackburn è classe 1841. Si dice che il suo soprannome fosse The Black Death, la morte nera, perché era un pazzo davvero. Era tra l'altro un forte bevitore e quando beveva diveniva molto violento. Questa volta Steinitz vince lo stesso, tra l'altro cappottone 7 a 0 proprio. Fra questi due giocatori e Steinitz c'è una storia perché ricordate Steinitz giocava per soldi nel club Simpson in the Strand e giocava non solo con degli amatori ma anche con giocatori molto forti e incontra proprio questi due e si crea subito un'inimicizia tra Steinitz e ognuno di questi due giocatori. Ci sono due eventi che è bene citare perché è abbastanza strani. Si dice che Steinitz e Blackburn siano stati coinvolti in una rissa perché, sapete, Blackburn alzava il gomito un po' troppo. E invece Zuckertort e Steinitz si sono letteralmente dissati a mezzo stampa criticandosi reciprocamente le analisi. Utilizzavano anche dei termini abbastanza scurrili. Oltre a giocare a scacchi, Steinitz decide anche di insegnarli perché in effetti è un modo per farci su dei soldi, no? È importante pensare che Steinitz sia non venale ma attaccato all'idea di poter fare degli scacchi il proprio lavoro. E tra i suoi studenti c'è anche Lord Randolph Churchill che è il padre di Winston Churchill. In effetti Steinitz aveva un sacco di conoscenti molto importanti però era difficile che lui chiedesse aiuto economico a qualcuno perché era una persona molto testarda. Aveva il sogno di fare degli scacchi il proprio lavoro e doveva dimostrare a se stesso e agli altri che era in grado di farcela. La sua determinazione è davvero ammirevole perché nonostante non vi sia l'evidenza che fosse un uomo sposato, nell'agosto del 1866, proprio mentre stava giocando il suo primo match mondiale, nasce sua figlia Flora. Diciamo che non so voi ma se diventassi padre cercherei un lavoro vero e abbandonerei questa idea di vivere di scacchi. Però fortunatamente Wilhelm ci ha creduto fino in fondo ed è riuscito anche a vincere questo match e a farsi le 100 sterline di cui parlavamo prima. In più anche da un punto di vista sociale, essere un immigrato nella Londra del 1800 non deve essere proprio una passeggiata. Soprattutto se sei ebreo sappiamo che più volte la storia è stata ingrata con questo popolo ed è proprio questa fatica ad integrarsi che lo spinge nel 1882 a spostarsi in America e a giocare negli Stati Uniti. La ragione più pratica è che The Field, il giornale per il quale scriveva, lo licenzia per assumere Hofer che è un amico di Zuckertort e deve essere davvero dura. Insomma sei stato anni, vent'anni in realtà in Inghilterra a lavorare e ti licenziano da un giorno all'altro semplicemente perché hai delle controversie con altri giocatori. Quindi decide di passare un mese o poco più a Philadelphia per tornare a Londra solo nel 1883 per un torneo al quale arriva a secondo con tre punti in meno di Zuckertort. E Zuckertort chiaramente visto che la forma non era proprio la chiave di lettura di questa di quest'epoca inizia a vantarsi di essere il nuovo campione del mondo perché ehi sono arrivato prima di te, tre punti di vantaggio avevo insomma sei veramente uno schifo. Allora Steinitz che è chiaramente testardo decide di sfidarlo per un match ma Zuckertort dice eh no io ho vinto il torneo, io sono più forte, c'è la prova, non serve che ti sfidi. Ha un po' la coda di paglia quest'uomo. Così Steinitz accetta il rifiuto di Zuckertort e decide di spostarsi con tutta la famiglia in America perché effettivamente la situazione era difficile da gestire. Però nel 1886 è Zuckertort che si fa sentire e lo raggiunge in America per giocarsi ufficialmente un titolo mondiale e questo è il primo titolo mondiale ufficiale. L'incontro era strutturato in questo modo. Si sarebbero giocate diverse partite in tre differenti città. New York, St. Louis e New Orleans. Il motivo di farlo in tre città diverse è che puoi raccogliere più soldi fondamentalmente. Vai in una città, fai un torneo, le persone ne sentono parlare dai giornali perché è il titolo mondiale, è una cosa grossa e quindi arrivano i turisti in quella città, poi si devono spostare in un'altra e tiri su più soldi alla fine. Il primo giocatore a ottenere 10 vittorie sarebbe divenuto ufficialmente il primo campione nel mondo. È inusile dire che Steinitz è bella meglio, però stavolta è solo per 12,5 a 7,5. Insomma, con Blackburn aveva dato 7 a 0. Zuckertort è stato un avversario più forte. Soprattutto perché all'inizio, per le prime cinque partite, era in vantaggio lui di 4 a 1. Però Steinitz era solito riprendersi durante il corso degli incontri. La sua idea era capire che cosa l'avversario gioca, prepararsi e batterlo successivamente. Oltre alla preparazione, quello che aiutò Steinitz a vincere era la cattiva salute di Zuckertort. La sua malattia si aggravò ulteriormente fino a morire solo due anni più tardi. Chiaramente deve sostenere altri incontri per il titolo mondiale. Nel 1889 batte Chigorin in Havana, Cuba, per 10,5 a 6,5. Nel 1890 vince contro Gunsberg a New York per 10,5 a 8,5. E una cosa divertente su Gunsberg è che lui era un uomo che usava inserirsi all'interno di quelle macchine che giocavano a scacchi. Cioè c'era questo uso popolare della sfida uomo-macchina anche nel 1800. Solo che non esistendo davvero dei computer in grado di giocare a scacchi, quello che succedeva era che un uomo fisico si inseriva all'interno di queste macchine giganti per giocare la partita e manovrare i pezzi dall'interno in pratica. Andando avanti nel 1892, di nuovo deve incontrare Chigorin, sempre a Cuba. E questa volta vince per soli 12,5 a 10,5. Ed è incredibile come, nonostante gli anni siano passati, nel 1892 Steinitz ha 56 anni. Spero di aver fatto bene i conti, se no la vita fa schifo. Ed è incredibile come lui riesca a vincere tutti questi incontri, nonostante abbia subito già due lutti. Nel 1888 perde la figlia quando ella aveva solo 21 anni. E dopo pochi anni perde anche la prima moglie. Anche se sarebbe più corretto dire compagna, perché non vi è davvero evidenza di un loro matrimonio. E insomma, con questi due lutti sulle spalle è difficile mantenere la forma. Però la fortuna di Steinitz è la determinazione. Questa volta, questa non deriva dal voler dimostrare di essere un forte giocatore. Per questo basterebbe vincere un titolo mondiale. Però voleva dimostrare davvero che la propria teoria moderna del gioco fosse valida. E che il suo stile posizionale fosse la nuova frontiera degli scacchi. Ed è quello che fa fino al 1894. Perché in questo anno viene sfidato da Emanuel Lasker, il quale lo batte per 12 a 7. Chiaramente Steinitz non ci crede e non vuole arrendersi al fatto di essere diventato un po' troppo vecchio. E nel 1896 riprova a vincere. Ma questa volta, insomma, ha 60 anni compiuti. È davvero troppo difficile. E perde per 12 e mezzo, 4 e mezzo. Purtroppo, ormai, alla fine della sua vita aveva perso qualche colpo. Nonostante questo, però, nel 1898 partecipa a un torneo a Vienna. E finisce al quarto posto. Che è peggio di come performava da giovane. Però è comunque impressionante per un uomo di 60 anni. 62, in questo caso. Purtroppo nel 1900 viene ricoverato in un ospedale psichiatrico e dichiarato pazzo. Per poi finire i suoi giorni il 12 agosto 1900. In un istituto per malattie mentali rimanendo poverissimo. Una cosa divertente, però, è che dopo la morte della sua prima moglie, la comunità scacchistica di New York sceglie di aiutarlo in un modo abbastanza particolare. Nella pratica gli hanno procurato del danaro, un appartamento, i mobili per arredarlo e una moglie nuova di zecca. Ancora una volta non è chiaro se si siano davvero sposati, però sappiamo che stavano assieme. Questa donna si chiama Elizabeth Baust. Negli ultimi anni era un po' impazzito, come detto, e mentre era a Mosca a giocare contro l'Hasker nel 1996, incontra una giovane ragazza e si innamora di questa ragazza, la quale non aveva propriamente 21 anni, stava all'incirca sui 18, diciamo, e ha avuto intenzione di sposarla. Solo che, non avendo 21 anni, questa ragazza non poteva sposarlo. In pratica Steinitz era tranquillissimo, diceva che gli piacevano le donne più giovani e che sua moglie avrebbe potuto chiaramente divorziare e cercarsi un uomo più giovane anche lei. Ecco, sicuramente non sono queste le parole con le quali vogliamo ricordare quest'uomo. Quest'uomo che aveva un grande sogno e che è riuscito a realizzarlo. Ecco, la morale di questo video è chiaramente che se giocate a scacchi finirete poveri e pazzi. No, aspetta, forse non era così. La morale di questo video è che se avete tanta determinazione e un sogno, dovete crederci fino in fondo. Fate come Steinitz. Anzi, se avete un sogno e state cercando di rincorrerlo, scrivetecelo nei commenti. Utilizzate l'hashtag StaySteinitz e raccontateci come state vivendo la vostra vita, quali sono i vostri progetti futuri e in che modo siete determinati. Grazie a tutti.